Un tempo imprecisato, forse un immediato futuro. Un delfinario in stato di abbandono che si concretizza sul palcoscenico attraverso una piccola vasca. Intorno si sviluppa il microcosmo di una vicenda umana che guarda le strutture del nostro presente e al destino della nostra specie. È Acquario, lo spettacolo andato in scena al Teatro Nuovo per il Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio. È una delle sezioni dell'ittico Eternauti, testo di Dario Postiglione, vincitore dell'ultimo premio inedito Colline di Torino. La regia è di Giuseppe Maria Martino, che spiega. Un testo che parla del nostro tempo e dal quale mi sento chiaramente rappresentato. In qualche modo il dispositivo attraverso il quale questo testo è stato messo in scena, che è vedere con la contemporaneità che ci interessa e quindi questo doppio linguaggio, questo doppio livello o piano, tra il linguaggio cinematografico e quello teatrale, proprio per tematizzare il passaggio dal particolare all'universale e viceversa. Quindi lo sguardo teatrale, il campo largo obbligato a teatro e poi il dettaglio, il particolare, il primo piano del cinema. In scena Giulia Quasana è Chiara, la cui prima relazione con Miele, l'ultimo delfino rimasto nell'acquario. Le ruote intorno bianca, interpretata da Simona Fredella, che cerca continuamente di salvarla, portandola via da un luogo ormai abbandonato. Presenza perturbante sarà il custode sordomuto del parco, che è il volto di Riccardo Ciccarelli. Incombe l'angoscia dell'onda, un'annunciata apocalisse che si trasforma in psicosi collettiva.